Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi per parlarvi della testimonianza che raccolse Padre Marcellino Iassenzanino da Carmela Frosina Leonardis. Carmela Frosina Leonardis faceva parte del gruppo di preghiera di Padre Pio di Comiso e ha raccontato che suo figlio Antonio aveva sette anni, erano in ospedale, soffriva di una leucemia ghiandolare, era in fin di vita, mentre gli erano tutti intorno, la mamma, il papà, c'erano alcuni familiari, c'era l'arciprete, c'era anche il medico con altre persone, si aspettava il momento della morte di questo bambino, però lui ad un tratto, lui non parlava, ad un tratto ha cominciato a parlare, disse ora tutti in silenzio, inginocchiatevi tutti e pregate, disse il bambino, tutti si inginocchiano, il papà è un po' scettico, non si inginocchiò e disse anche tu papà, inginocchiati perché sta per passare, sta per arrivare Padre Pio che mi sta venendo a prendere. Antonio dopo qualche minuto spirò e morì. Subito Carmela volle mettersi in macchina col marito per venire qui a San Giovanni Rotondo, ma c'era un sistema di prenotazioni, quindi era abbastanza difficoltoso potersi confessare immediatamente da Padre Pio, ma le riuscì, riuscì a scambiare il suo biglietto con un'altra persona e riuscì a confessarsi. Ecco, quando si andò a confessare lei racconta che subito Padre Pio esordì così, beh, che hai fatto, hai cambiato numero, ti saresti confessato lo stesso, tu non devi preoccuparti, allora lei impietrita, imbarazzata, pensate un po', non riusciva a parlare. Padre Pio si accorse del suo imbarazzo e poi aggiunse ti aiuterò io, tu stai tranquilla e così rispose a tutte le sue domande. Poi le diede la soluzione e disse Carmela perché sei venuta? Per dirmi che tuo figlio Antonio è morto, non ti preoccupare, Antonio è in paradiso, disse Padre Pio a Carmela, è un angelo ormai, è un angelo che è in cielo e tu sarai per sempre sua mamma e subito Carmela chiese padre potrò avere altri figli e Padre Pio fu schietto e sincero e disse tu potrai avere quanti figli vorrai ma devi fare sempre la volontà di Dio. Dopo poco Carmela si rimise di nuovo in macchina col marito e tornò in Sicilia, però ripensava sempre a quelle parole di Padre Pio, in effetti fu così, lei rimase subito incinta ma dopo 15 giorni perse sua figlia. Ebbe di nuovo un'altra bambina che chiamò Giovanna, cresciuta, aveva due o tre anni, una brutta malattia e le morì tra le braccia in treno durante un viaggio. In questa testimonianza ricca di sofferenza Carmela a Padre Marcellino ha raccontato la sua vita ma allo stesso tempo ha raccontato quanto Padre Pio le stava vicino e le aveva in un certo senso preannunciato ad accettare dalla vita quello che Dio permetteva.